Allora, possiamo iniziare registrando e quello di cui intendiamo parlare oggi è cosa fare per promuovere e realizzare una concreta inclusione sociale nell'agropontino. Abbiamo delle testimonianze e abbiamo delle presentazioni di buone pratiche anche sul piano culturale per un'integrazione che faccio a leva sulla cultura e abbiamo anche rappresentanti degli enti intermedi e locali, quindi della regione e del comune di Latina. Voi avete, e in parte anch'io, noi in modo collettivo abbiamo partecipato a una serie di incontri, a tre incontri, in cui sostanzialmente si è parlato e discusso di integrazione, di discriminazione e di comunicazione, di come la comunicazione o la cattiva comunicazione possa anche incidere sui due aspetti che ho citato in precedenza, quindi di come faciliti o meno l'integrazione, di come provochi o aiuti a eliminare discriminazione. Nel primo incontro, quello su integrazione è stato molto partecipato, ci siamo divisi in gruppi di discussione che poi sono confluiti in una sintesi generale ed è emerso come dall'assenza di un vero e proprio processo di integrazione all'interno del tessuto sociale del territorio pontino, in cui vivono i lavoratori immigrati, ecco dalla mancanza di questo processo di integrazione, nascano poi gli episodi, i fenomeni di sfruttamento in ambito lavorativo e delle condizioni socio-economiche difficili e precarie in cui tanti lavoratori immigrati sono costretti a muoversi. Quindi, ma anche il processo di integrazione, lo sfruttamento è più facile. Nella seconda sessione, quella sulla discriminazione, ovviamente tutti questi temi sono fortemente legati, la distinzione è più che altro di accento e so che quando si fanno iniziative di questo tipo non è sempre facile tenere separati questi aspetti come fossero delle scatole che vanno un po' indipendenti l'una dall'altra. Quindi, parlando di discriminazione, si è sottolineata la diffusione di forme di discriminazione nell'area, nella provincia latina, nell'agro pontino, e di quanto siano importanti i servizi pubblici e iniziative del terzo settore, e a volte è la collaborazione fra questi, in sostegno a chi denuncia, a chi si fa portatore di una denuncia per cambiare le cose rispetto alla discriminazione. Proprio per evitare che chi denuncia discriminazione, poi per questo solo fatto, sia oggetto di una più marcata discriminazione, se non peggio, e quindi lasciato solo fenomeno che normalmente, anche in altri ambiti, dà luogo a una certa timidezza o ritrosia o rinuncia a denunciare. Quindi, sostenere chi si batte per condizioni migliori denunciando le discriminazioni e i supprusi. Nella terza sessione, infine, quella su il potere del linguaggio e della comunicazione, sono state prese in considerazione molteplici forme del linguaggio, della comunicazione e della descrizione della realtà, che spesso avviene in modo parziale, alimentando così separazione, incomprensione, fino ad episodi di odio, facendo del migrante quel nemico di cui spesso c'è bisogno per canalizzare, neutralizzandola, poi l'insoddisfazione dei cittadini per le condizioni in cui le nostre società vivono e di cui i migranti sono partecipi per quanto riguarda il peso delle difficoltà e non certo la causa. Ecco, questo è stato, diciamo, in pochi minuti un percorso di molte ore con tante voci che hanno parlato. Bene, il programma di oggi è molto denso, abbiamo parecchi temi, abbiamo testimonianze su buone pratiche nello sport e nella cultura, abbiamo il tema del lavoro e dell'inclusione sociale, dell'inclusione sociale sul territorio e poi la voce delle istituzioni. Quindi sono tante persone, tante voci e tante cose interessanti, quindi io sarò molto rigido nella gestione del tempo perché sennò se la pigliano con me e quindi do volentieri la parola al primo gruppo di espositori sul tema appunto cultura, integrazione, buone pratiche di integrazione e di inclusione attraverso la cultura e pregando ciascuno e ciascuna di stare entro i sette minuti a loro, a disposizione di ogni espositore. Sette minuti, ai cinque minuti farò un fischio. Iniziamo con Pina Valle Rotonda di Acanthus di Astrolabio. Buonasera, buonasera, eccomi. Acanthus è un progetto, nasce all'interno del progetto ENA, quindi all'interno di emergenza Nord Africa nel lontano 2011 e poi si incardina all'interno del progetto SPRAR nel 2014 e attualmente si proimi. L'Acanthus è un laboratorio espressivo, è un laboratorio creativo, una sartoria sociale. Cosa succede all'interno dell'Acanthus? All'interno dell'Acanthus avviene un vero processo di inclusione e di integrazione perché le donne che frequentano questa sartoria, che sono ex beneficiare SPRAR e anche gli stessi ospiti che attualmente sono all'interno del progetto, seguono tutto un percorso, un percorso di inclusione, quindi anche dal saper gestire il proprio spazio, quindi l'ambiente, la cura di se stesse e della persona, per poi avviare un processo proprio di formazione, quindi formazione in questo caso imparano un mestiere, quindi imparano a cucire. Non è una banale sartoria perché in realtà realizzano e creano dei capi molto belli, quindi di alta qualità. Tutto questo è successo perché è proprio all'interno di questo laboratorio, che è un laboratorio che tra l'altro è sito all'interno di un appartamento, quindi è un ambiente molto naturale, quindi ricorda molto una casa per loro. Quindi questo cosa significa? La libertà poi di sentirsi a casa, di esprimersi e di essere libere. Tutto questo ha portato ad esprimere la loro creatività, quindi il loro saper che hanno portato, per noi è stata una grande risorsa perché la nostra creatività, il nostro sapere, si è fuso un po' con il loro, al punto tale da uscire, da realizzare veramente dei prodotti di alto livello. È un ambiente molto sereno, molto rilassante, quindi molto bello, i prodotti sono veramente di lo stesso materiale, c'è un'attenzione nella ricerca del materiale, quindi tutto questo porta loro veramente ad avviarsi ad un percorso di inclusione, di formazione e di inserimento lavorativo. Tutto questo ha portato all'assunzione di quattro donne ex beneficiari SPRAR che adesso attualmente loro sono assunte all'interno del progetto Acanthus e quindi con un contratto a tempo indeterminato sono assunte da noi, dalla cooperativa Astrolabio e sono donne, sono persone che ce l'hanno fatta, hanno superato poi questo momento così difficile e hanno lasciato un po' alle spalle tutto quello che è stato un momento di grande sofferenza, di guerra e di tutto quello che poi sappiamo, il loro percorso per arrivare fin da noi. e quindi veramente hanno ripreso con le mani la propria vita, hanno ripreso a sorridere, hanno ripreso a pensare al loro futuro e quindi questo porta, il progetto Acanthus ha portato a poter poi in qualche modo pensare e avere la voglia, la volontà di pensare ad un futuro, quindi a pensare ad una vita come la nostra, quindi una casa, un lavoro, degli amici e questo è successo all'interno di Acanthus, è un ambiente dove veramente è un talento molto alto dove loro sono loro stessi ormai che vanno alla ricerca appunto sia di corsi di formazione per migliorarsi e sia per poi aiutare le nuove donne, quindi le nuove beneficiari, perché loro hanno proprio stato formato come peer education, per cui loro sono a loro volta le tutor, gli educatori delle nuove beneficiari, quindi è questo scambio, diciamo, questa restituzione da parte loro, quindi dare alle nuove donne, alle nuove donne migranti e tutto quello che poi loro in questo periodo si riusciano a ottenere. Mancano due minuti. Sì, è un percorso veramente lungo e difficile anche per loro, proprio perché vengono da un paese lontano, da una cultura completamente diversa dalla nostra, però ecco, è anche doloroso spesso proprio perché, per una lingua diversa, per tante condizioni, però loro veramente hanno messo a disposizione se stessi, proprio la loro capacità e il loro tempo pur di portare avanti un progetto così virtuoso per loro che poi è il loro lavoro, insomma, questo è importante. E' importante perché veramente all'interno è un vero laboratorio riabilitativo, dove veramente seguendo questo percorso riescono poi a poter inserirsi nel mondo del lavoro. Ti sarebbe nulla altro da dire, comunque. Prego, no, ma ancora... No, 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 esattamente tante, voglio dire che tutto questo ha portato anche ad avviare un'attività su Milano, quindi i prodotti realizzati qui all'interno del nostro laboratorio di Latina poi sono esposti presso questa showroom a Milano, una zona molto bella a Missori, vicino all'università e quindi loro stesse vengono a Milano, vengono perché io sono appena tornata, vengono perché anche per loro, insomma, è un modo proprio per poter imparare e quindi prendere ancora e migliorare ancora di più questa attività e per poter poi soprattutto trasferirla alle altre nostre beneficiari. Questo è stato molto importante per loro, mettersi in una condizione, ecco, il loro ruolo fondamentale è quello di sapersi mettersi alla pari, quindi, e questo è un modo che all'interno di un laboratorio è fondamentale perché avvia proprio un processo di autostima, quindi c'è poi dalla parte dell'altro, del nuovo beneficio, della persona che si avvicina a questa attività, a questo percorso, veramente è un po' il modo, insomma, imitare, insomma, imitare la persona che finalmente ce l'ha fatta e quindi questo è una parte, diciamo, di garantis. Benissimo, grazie. Veramente interessante. Volevo dire, approfitto, non avevo anticipato, domande, richieste di approfondimento le teniamo per quando saranno finite queste tre prime esposizioni, quindi abbiamo adesso, ricordo, abbiamo ancora articolo 24 della cooperativa Kairos. Io intanto ho imparato che sartoria sociale vuol dire sartoria sociale perché quando avevo sentito la frase, siccome in questo mondo siamo bravi a inventare metafore, pensavo che sartoria sociale potesse essere un nuovo modo per fare, per concepire, no, è proprio una sartoria ed è sociale. Non è solo una sartoria, è molto... No, no, è chiaro, è chiaro, però... Poi, diciamo, si arriva al lavoro, quindi... Ha quella sua materialità di sartoria che rende tutto molto concreto. È importante proprio perché alla fine si arriva al lavoro e quindi alla sartoria. sicuramente. Benissimo, mille grazie. Pina, adesso Paolo D'Arcangelis, articolo 24, sette minuti, a lui la parola. Grazie, salve, buonasera, un saluto a tutti, a tutti i relatori, insomma, cercherò veramente di essere brevissimo perché il programma è ricco di contenuti e è giusto, insomma, che tutti abbiano il tempo di esporre la loro esperienza. Io questa sera intervengo quale presidente, sono un avvocato e opero a fondi, ho studi a fondi, ma stasera intervengo più in veste di presidente dell'associazione articolo 24, che è un'associazione che ha sede a fondi ed è un'associazione che nasce nel 2014 composta prevalentemente da avvocati, ma non solo, con lo scopo appunto di intervenire un po' in quelle che sono le marginalità dalla persone appunto che hanno problemi legali, meno abbienti, senza fissa timora, migranti e quindi ci occupiamo un po' di fornire assistenza alle fasce più deboli. Perché mi avete chiesto di intervenire questa sera? Io appunto come presidente dell'associazione articolo 24 con il mio gruppo negli anni ci siamo sempre fatti questa domanda, che cosa possiamo fare per prevenire un po', perché da avvocati di solito ci si occupa di più di quello che è l'aspetto patologico, dell'esperienza che può avere il migrante piuttosto che la persona in difficoltà. Che cosa possiamo fare quindi, che cosa ci siamo sempre chiesti, che cosa avremmo potuto fare per intervenire un po' un attimino prima, no? E quindi cercare di aiutare queste persone a avere una possibilità di integrazione e socialità e sviluppo reale, concreta, a prescindere da quello che potrebbe essere, che poteva essere la problematica legale piuttosto che, diciamo, legata a qualunque difficoltà che ovviamente i migranti affrontano. Ne raccontavi tu prima la tua esperienza stamattina al Comune, sono storie allucinanti che noi a volte, quando poi ce ne troviamo di fronte quasi, cioè, vedi delle cose assurde, magari per la negligenza di un impiegato, piuttosto del malfunzionamento di un programma, una persona rischia di vedere sfumato il lavoro che ha mesi di sforzi, sacrifici, vabbè, insomma. E quindi abbiamo pensato, avendo appunto conosciuto molti ragazzi, giovani ragazzi, chi studente, chi lavoratore, chi insomma, con varie varie funzioni, varie varie collocazioni. Doro ci parlavano sempre di questo sport che loro praticano, che poi è popolarissimo, che in realtà poi ho scoperto avere molti più fan del calcio, che è il cricket, no? Perché il cricket è appunto questo sport che non si gioca a cavallo, attenzione, non lo confondiamo con il tolo, perché molti poi dicono, ma i cavalli? No, non ci sono i cavalli, che è appunto uno sport inglese, britannico, che appunto gli inglesi hanno un po' esportato in tutte quelle che erano, quelle che sono state le ex colonie. E poi l'hanno preso gli americani e l'hanno chiamato baseball. E poi il baseball è un po' diciamo una caricatura del cricket, no? Però diciamo che in origine era cricket. E quindi con questi ragazzi abbiamo dato vita a questa esperienza, che poi in effetti è stata una sorta di osmosi, perché diciamo all'inizio si è partiti per aiutarvi, per sostenerli, poi alla fine nel fare questa cosa abbiamo scoperto che ci piaceva, ci piaceva proprio come gruppo poterli sostenere, poterli presentare sotto questa veste che a noi sembrava ovviamente normale, ma per chi magari è abituato a vedere il migrante come, passatemi il termine, come uno strumento da lavoro e purtroppo nel contesto nel quale mi trovo io, la realtà è purtroppo in molti casi è proprio questa qui, vedere un ragazzo che tolti i panni del lavoratore, indossava la rivista da cricket e iniziava a fare questo sport che è di un'eleganza, di una tecnica e di una complessità delle regole che io ancora oggi fatico a comprendere, è veramente qualche cosa di scioccante, scandaloso. Quindi da questi episodi abbiamo intuito il potenziale che questa buona pratica poteva avere a livello di impatto sociale, cioè lo sport come veicolo di integrazione, che poi può sembrare una frase che la si sente cotta, trita e ritrita in mille salse, ma io vi assicuro che per quanto la nostra esperienza non è un'esperienza quarantennale, trentennale, diciamo che come associazione muoviamo i passi più o meno da una diecina di anni, io non ho avuto la fortuna di imbattermi in nulla di così potente come quello che è lo sport, inteso appunto come veicolo di integrazione e messaggio rivolto poi a quelle che sono anche le generazioni del futuro, che sono i giovani, perché sono quelli che poi io ritengo che bisogna indirizzare lo sforzo maggiore, perché sarà la società del futuro. E io vi posso garantire che in tutti i contesti in cui siamo andati siamo stati accolti in maniera a volte diciamo complicata, altre volte però nel giusto contesto si sono create delle situazioni anche di convivialità, di socialità, di condivisione che sono state clamorose, tutto questo grazie allo sport, perché poi c'è il famoso terzo tempo, ci si siede, si mangia, si sta insieme e quello è un modo per condividere e scoprire che in realtà le differenze sono pari a zero, per noi possono essere concetti scontati, però come gruppo e come associazione il nostro obiettivo è stato proprio quello di trovare un modo per veicolare questo messaggio e questa modalità è stata una modalità che io a distanza di sei anni perché l'esperienza del cricket inizia nel 2015 io la ritengo ampiamente positiva da ripetere, da portare avanti, anzi perché noi la stiamo portando avanti, sebbene con qualche purtroppo evidente difficoltà, perché parliamo di uno sport che necessita anche di un contesto di gioco che non è facile da reperire sul nostro territorio, dove ci sono miriadi di campi da calcio, una piccola curiosità, poi io nel cercare questo campo da cricket che non si trova, non si è trovato, vabbè, tranne poi dei surrogati che poi vi dirò, ho scoperto che sul nostro territorio ci sono tantissimi campi da calcio abbandonati, voi mi direte perché, perché, non so, comunque ho scoperto questa cosa dei tanti campi da calcio perché oggi non c'è più quella abitudine che magari ci poteva essere quando ero piccolino io, che tutti giocavano a pallone, tutti lo sport popolare, questa cosa qui un po' si sta perdendo, quindi a fronte di decine di campi da calcio abbandonati e quindi spazi che potrebbero essere anche facilmente ricollocati e destinati a questa nuova, a questo nuovo impiego, purtroppo abbiamo impattato in maniera fragolosa con una totale disinteresse e cecità delle amministrazioni con le quali mi sono relazionato e nessuna di esse, sebbene sollecitata più volte, ha avuto la lungimiranza di capire la tipologia di, come dire, strumento benefico, integrale e sostenibile con vantaggio per tutti perché parlo di fondi, a fondi c'è una popolazione immigrata ufficiale di circa 7000 persone, per non parlare degli stranieri regolari, persone che ovviamente hanno diritto di praticare sport, quindi io se fossi un amministratore sicuramente me lo vorrei il problema di dedicare uno spazio a queste persone e assicuro che per quanto voi direte, insomma, un campo, Fondi è la città nota per l'agricoltura, non mi dire che avrai fatto fatica a trovare un campo, io vi dico che ad oggi siamo cinque anni che lo cerchiamo, tra l'altro credo che sia collegato l'amico e consigliere Francesco Ciccone, abbiamo fatto una fatica e facciamo fatica a trovare, quindi l'obiettivo vuole essere quello sicuramente di continuare questa esperienza, al di là del dato sportivo che tra l'altro ci ha anche riso perché i tornei ai quali abbiamo partecipato nel 2016 abbiamo fatto l'Interregionale che ha avuto una copertura nazionale, abbiamo fatto trasferte a Bologna, tutta Italia, a Firenze, classificandoci terzi, poi nel 2016 abbiamo vinto un torneo provinciale, al di là del lato diciamo sportivo agonistico che pure è importante perché i nostri ragazzi ci tengono, è sicuramente un'occasione, un'occasione che va implementata, va sfruttata e va dotata di quegli strumenti che necessita per diventare una cosa normale, ecco, una cosa normale che è giusto che sia tutelata e implementata, non solo grazie appunto all'iniziativa di quella che può essere il privato, un'associazione privata, ma dovrebbe essere proprio una cosa che strutturalmente si guida e curata da chi ha responsabilità di gestire il nostro territorio e purtroppo in questo ho potuto constatare un po' di assoluto disinteresse, per non dire altro, e vi ringrazio e veramente sono contento di aver potuto condividere con voi questa esperienza che giudichiamo essere positiva assolutamente, con le buona pratica. Grazie, restituisco la parola, grazie. Grazie, molto interessante, direi che il tema dello sport non è frequente, non è tema frequente quando si parla di problemi dell'immigrazione, dell'inclusione, è anche l'idea del lavoratore, del duro lavoratore dei campi in condizioni che conosciamo, che possiamo immaginare, che si trasforma in elegante giocatore di cricket, è una immagine che ci dà anche un po' un'idea della complessità dei temi, anche delle esigenze della vita umana, non del migrante o della migrante, ma dell'essere umano. Bene, abbiamo ora Paola Sabatini della cooperativa Kairos, la quale è anch'essa a disposizione, sette minuti. Prego. E poi ricordo tutte le domande, le questioni che spero che siano suscitate da questi interventi al termine della tripletta. Prego. Ecco, buonasera. Grazie, buonasera a tutti e a tutti i partecipanti, i relatori. Allora, la mia testimonianza vuole raccontarvi un po' un progetto che da molti anni, ormai dal 2016, quindi sono tante edizioni, la cooperativa Kairos, di cui ovviamente faccio parte e sono socia, porta avanti insieme a Casa Scalabrini 634 e anche grazie poi al supporto fondamentale dell'associazione Insieme, nel territorio del Comune di Roma, quindi ci spostiamo un po' dall'agropontino, però è un progetto altamente replicabile, insomma, quindi questo potrebbe suscitare, insomma, magari anche qualche interesse in quel territorio. È un progetto che si chiama Campi Riaperti e ha avuto sempre l'obiettivo ovviamente di favorire percorsi di inclusione sociale e anche lavorativa, chiaramente, di persone migranti, attraverso un periodo da una parte di orientamento, di formazione, on the job e poi di sviluppo di un tirocinio proprio all'interno di aziende agricole multifunzionali. Quello che, insomma, abbiamo visto in tutti questi anni, perché noi, diciamo, finanziamo ogni anno all'incirca 4-5 tirocini, quindi parliamo di numeri molto piccoli, è che prima di tutto per riuscire a realizzare, insomma, un buon percorso di inclusione socio-lavorativa, bisogna innanzitutto considerare il migrante come una persona portatore di una progettualità individuale, che spesso questa è a volte poco visibile, poco percettibile, anche poco definita dalla persona stessa, ma che comunque è presente, è lì ed è chiara. È quindi importante a questo punto poter avviare, prima di tutto, un percorso anche di ridefinizione e di ricostruzione della sua progettualità, che a volte magari si è anche modificata nel percorso migratorio, quindi da quando è partito a quando è arrivato, perché poi si deve anche rimodificare rispetto al territorio, dove si trova. Però bisogna sempre prendere in considerazione quelle che sono appunto anche le aspettative e le motivazioni e gli obiettivi della persona che abbiamo di fronte. Quindi, e poi chiaramente anche di conseguenza, oltre che portatore di una progettualità individuale, bisogna anche considerare la persona migrante come portatore di risorse e di competenze personali specifiche. Queste bisogna aiutare la persona a individuarle, a riconoscerle e anche a valorizzarle, quindi per riuscire proprio ad orientarlo maggiormente sia verso un percorso che può essere di tipo formativo, lavorativo o anche di volontariato o di qualsiasi altro tipo. E questo aiuta anche a centrare l'intervento sul beneficiale e quindi a dargli anche una maggiore continuità nel progetto nel quale la persona viene inserita. Noi, come dicevamo prima, lavoriamo con numeri molto piccoli, quindi riusciamo in ogni edizione del progetto a fare in modo che ci sia un altissimo, un percorso veramente molto individualizzato che quindi ci ha permesso in tutti questi anni anche di renderlo molto efficace e molto funzionale. Ve lo racconto brevemente. Quello che noi proviamo a fare è di prevedere un percorso progressivo delle persone coinvolte in contesti agricoli multifunzionali. Quindi sono aziende agricole vere, reali, altamente produttive e molto diverse l'una dall'altra. Quindi quello che cerchiamo di fare è di accogliere la persona e di conoscerla chiaramente, di far emergere quello che dicevamo prima, sia la progettualità individuale che anche le competenze di ognuno e di accompagnarli in questa conoscenza di queste aziende attraverso anche un periodo molto cauto, molto lento, non abbiamo fretta di inserire velocemente la persona. Quindi li accompagniamo all'interno di queste aziende multifunzionali in giornate intere dove le persone si sperimentano in diversi ambiti produttivi. Tutte le nostre aziende con cui lavoriamo sono aziende che hanno dall'orto all'allevamento di vari tipi di animali, al casificio, al salumificio, al magazzino del confezionamento, anche al punto vendita. Quindi la persona la accompagniamo e le permettiamo di fare delle esperienze lavorative molto diversificate. Questo proprio per aumentare sempre di più l'orientamento e anche sperimentarsi con le proprie attitudini, anche le proprie preferenze, perché poi non è detto che a tutti piaccia fare tutto. E questo lo facciamo con l'affiancamento sia degli operatori, in questo caso appunto di Kairos, e soprattutto anche con gli imprenditori agricoli. Quindi il beneficiario e l'imprenditore agricolo hanno la possibilità di conoscersi e anche di studiarsi reciprocamente, di capire se quello che vanno a fare e se la persona, il futuro di Rocinante, possano stare insieme, possano creare una relazione anche di rapporto lavorativo che sia funzionale. E quindi tutte queste visite poi piano piano si innescano, anche una simpatia, una preferenza, e quindi può partire poi un tirocinio che è sempre da noi molto monitorato e agevolato. Quindi stiamo vicino sia al mondo agricolo che al mondo del sociale, no? Quindi ci mettiamo un po' a fare una mediazione di linguaggio, di bisogni, di obiettivi, no? Perché poi ovviamente l'azienda ha degli obiettivi che sono la produttività e sono, insomma, arrivare a fine mese, il tirocinante ha anche obiettivi invece di apprendimento e anche di tempi che sono molto più graduali e più lenti. Due minuti. Due minuti, sì, sì, no, finito. Quindi, insomma, questo è stata un po' la parte vincente, noi crediamo, perché poi tantissimi tirocini che abbiamo attivato si sono trasformati comunque anche in un prolungamento del tirocinio in molti casi, in alcuni casi anche in una vera e propria assunzione e in ogni caso hanno prodotto un aumento delle reti relazionali e di conoscenze. nel momento in cui la persona migrante riesce ad aumentare la conoscenza del territorio, la conoscenza di tutte le possibilità anche che quel territorio può offrire e di tutte le attività che ci sono, diventa quindi portatore, no, di tutte quelle reti relazionali e di conoscenze che comunque facilitano in ogni caso l'inclusione sociale e anche lavorativa. quindi questo, spero di essere stato, ho finito anche prima. Chiarissimo, molto grazie. Niente, niente. E adesso a disposizione, abbiamo qualche minuto, se ci sono domande, interventi o considerazioni su quello che avete e che abbiamo ascoltato fino ad ora. Prego. Mario, ce n'è una in chat di domanda. Ah, bene, 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 bene. Sì, si chiedono se ci sono squadre junior. Immagino si stia parlando del cricket, vero, con la I, giusto? Paolo? Mi sa che si è allontanato. Paolo, se ci sei non si sente perché non c'è il microfono attivato. E una domanda per Paola, allora, se le aziende agricole sono, se il soggiorno presso le aziende agricole è per più anni o vengono cambiate anno dopo anno? Che cosa però, le aziende? Non ho capito. La domanda è questa, è scritto così, se le aziende agricole sono per più anni o cambiano di anno in anno? Non credo per la persona che va a fare... Se le aziende con cui lavorate sono sempre le stesse. Con cui lavoriamo, sì, alcune sono veramente storiche, ci lavoriamo da molto tempo. Poi negli anni magari se ne inseriscono altre, anche di nuove, che intercettiamo proprio perché poi la rete aumenta anche a noi. Quindi ovviamente c'è un passaparola anche tra le aziende. Sì, quindi insomma... Abbiamo Paolo che risponde. Sì, ci sono squadre junior. Altri? Che prendono o la parola o la sastiera. Dice Paolo che è uno dei requisiti per potersi iscrivere alle serie maggiori, quelle di essere, di avere un vivaio. Se c'è quindi il vivaio, per me è un po' linguaggio tecnico, ma ecco, nella nostra squadra, immagino quella ufficiale, diciamo, a cui fa riferimento Paolo, l'età media è 25 anni. Che però non credo che sia junior l'età media. Quindi c'è un vivaio giovanile, poi la squadra ha una media di 25 anni. Bene, altri? Se non ci sono altre domande, ringrazio tutte le espositrici e espositore. Passiamo a questo punto al secondo gruppo di interventi. Sul nesso informazione e formazione abbiamo due interventi da tempi moderni e da Caritas. Allora, abbiamo per entrambi dieci minuti scarsi, diciamo così, tra i nove e dieci minuti. Cominciamo con tempi moderni, non so se nel frattempo Pina Sodano è arrivata. Comunque l'intervento è co-gestito da Marco Guadagnino e Pina Sodano, quindi a voi la parola. Bene, inizio io, salutando tutti e tutte e ringraziandovi. Allora, i tempi moderni si caratterizza come modalità di intervento con un tentativo di tenere insieme, noi pensiamo ad oggi abbastanza ben riuscito, di tenere insieme gli aspetti teorici, gli aspetti accademici di ricerca con quelli più concreti, più pragmatici, sostanzialmente attraverso un lavoro di approfondimento continuo, di conoscenza, provare a dare delle soluzioni anche molto pratiche, per provare a risolvere alcune delle questioni più dirimenti. Diciamo, la chiave di tutto è la nostra, probabilmente la nostra modalità di fare accoglienza, quindi una metodologia che prevede un'accoglienza che noi definiamo calda, quindi un'accoglienza che è orientata in qualche modo all'analisi dei bisogni, del contesto sociale, del contesto economico, della comunità e della persona con la quale ci interfacciamo, la persona che in qualche modo ha bisogno di aiuto, ha bisogno del nostro supporto. Un'accoglienza che noi agiamo, manifestiamo nei luoghi dello sfruttamento, nei luoghi di residenza dei migranti, con alcune caratteristiche delle quali parliamo fra un attimo, ma che comunque in qualche modo ritornano nel nostro agire, provando in qualche modo ovviamente sempre a preservare l'anonimato assoluto nelle nostre interlocuzioni e provando a tenere il massimo della professionalità in ogni momento della nostra relazione con queste persone. Infatti in qualche modo la nostra rete, il nostro gruppo di lavoro è formato da una serie di professionisti, di tecnici in qualche modo che vengono selezionati con molta cura, attenzione, proprio per la delicatezza in qualche modo del lavoro che facciamo quotidianamente. Diciamo che ispirandoci un po' alla pedagogia degli oppressi, il nostro è un percorso di accompagnamento di queste persone. Diventiamo reciproci compagni di strada in qualche modo, in un percorso di emancipazione nel quale sono le persone stesse a stabilire la strada e le forme di questa emancipazione. Tutti i nostri servizi ovviamente sono gratuiti, sono servizi forniti H24 in qualche modo, siamo disponibili sempre, in ogni momento, in ogni istante a dialogare, ad ascoltare, a dare informazioni, ad intervenire. Non abbiamo uno sportello fisso, siamo noi che in qualche modo raggiungiamo loro. E durante tutto questo percorso di presa in carico ovviamente il migrante è assolutamente, la persona è assolutamente centrale. È sempre informata di tutto, anche attraverso l'aiuto di mediatori che molto spesso provengono da questo percorso complesso molto triste, molto faticoso ovviamente da gestire, di caporalato e sfruttamento e che ovviamente, come potete immaginare, hanno una sensibilità verso tutti quegli aspetti che fanno riferimento anche al non verbale e quindi alla possibilità che hanno queste persone anche di interpretare silenzi, momenti di difficoltà che sono ovviamente molto frequenti. Il percorso in qualche modo è sempre codeterminato dai migranti. In questo percorso di emancipazione, che può prevedere anche la denuncia ovviamente, ma non necessariamente, della violenza e dello sfruttamento, in questo percorso può esserci appunto la denuncia, può esserci la Costituzione partecivile e può esserci anche, se volete, l'esposizione mediatica. Ovviamente sotto accordi e sotto la tutela massima della persona che si espone anche pubblicamente alla denuncia. In questo senso noi ovviamente ci occupiamo di comunicazione. Per parlare di comunicazione e di ricerca, per parlare a tutti quei soggetti che, con i quali noi quotidianamente interloquiamo, sia per, appunto, per ovviamente in un'ottica di continuo apprendimento, ovviamente, ma anche per fornire degli strumenti, se volete, anche alla politica. Di frequente noi siamo stati al centro di proposte procedurali, legislative, abbiamo collaborato alla redazione della 199, la legge della Regione Lazio contro il caporalato, siamo consulenti nella Commissione Antimafia, proprio ieri siamo stati citati in un rapporto della Commissione Agricoltore e Lavoro della Camera. Insomma, abbiamo un canale poi di comunicazione che per noi è fondamentale anche con la parte istituzionale che si occupa poi, in qualche modo, poi del cambiamento legislativo. E quindi proviamo a tenere insieme vari piani, quello politico, quello sociale, quello culturale, quello storico, tenendolo insieme anche in qualche modo coordinando con le attività, come si diceva prima, di ricerca e formazione. Soprattutto puntando poi, in qualche modo, anche in questo percorso di formazione, alla centralità del ruolo e delle persone con le quali ci interfacciamo e che prendiamo in carico, in qualche modo, che sono e rimangono soggetti di diritto, soggetti di diritto di parola e di dissenso, anche come noi spesso ci diciamo. E proprio questo dissenso è una delle cose che in qualche modo coltiviamo e che abbiamo fatto, se volete, anche contribuito a fare esplodere con le manifestazioni, gli scioperi organizzati a partire dal 2016, che sono state una novità almeno per il territorio laziale molto importante, dirimente. Sono stati dei momenti di rottura accompagnati e cogestiti dalle organizzazioni sindacali, dalle Cigelle in particolare, ma che hanno smosso qualcosa. Sì, sì, ma ho finito semplicemente per citare un altro paio di aspetti per noi rilevanti. Il primo è, per esempio, noi abbiamo contribuito in tema di informazione e di comunicazione, non so, proprio a propaganda. Venerdì scorso sono stati intervistati due di quegli uomini che noi seguiamo da tanto tempo. Sono stati intervistati, però, alla fine di un percorso. In particolare uno dei due che forse qualcuno di voi avrà visto, Balbir, è una persona che noi seguiamo da quattro anni, che ha accettato recentemente, in qualche modo, di rendere pubblica la sua vicenda dopo un percorso nel quale noi abbiamo, in qualche modo, lo abbiamo portato a essere sicuro della sua posizione, a essere tutelato da tutti i punti di vista. e in questo senso il ruolo, il rapporto che noi abbiamo con le forze dell'ordine è centrale, quotidiano, perché appunto in questi anni abbiamo imparato, se ce ne fosse bisogno ovviamente, dell'importanza di avere attorno tutta la rete territoriale per il sostegno a queste persone. niente, penso di aver detto un po' di cose, sono, aspetto le domande, ecco. Bene, molte grazie. Marco, è molto interessante e complesso il lavoro di cui hai dato qualche cenno, così che però dà un'idea della profondità. Io devo dire una cosa, rispetto a diritti, denuncia, soprusi, sfruttamento, leggendo i materiali che avete prodotto, che si sono prodotti, mi ha molto colpito questo, cioè il problema del termine padrone, cioè si dice, si usa questo termine e il fatto che si utilizzi mostra la retratezza delle relazioni di lavoro che ci sono fra appunto chi il lavoro lo fornisce e chi se ne appropia e lo utilizza. E quindi padrone è una brutta parola e se riusciamo a farla scomparire, questo è quello che ho capito, significa che stiamo emancipando il lavoro. E io ricordo a una certa età, negli anni 60 e 70 e anche un po' negli anni 80, i sindacati, gli operai sindacalizzati usavano la parola padrone, in piazza contro i padroni, dimostriamo contro i padroni la colpa del padrone, cioè si schiaffava in faccia al datore di lavoro irresponsabile, carogna, eccetera, questa parola. Ed erano i datori di lavoro che non volevano essere chiamati padroni, ma no, noi siamo datori di lavoro. Quindi è chiaro che nel campo le cose sono diverse che in fabbrica, ma è anche vero che la realtà del mondo rurale diventa oggetto di discussione, di osservazione, di intervento, grazie soprattutto al flusso di migranti che sono venuti, che si sono innestati con tutto il tema del caporavato che già c'era, ma era fuori dal centro. Quindi insomma mi colpisce che c'è un mondo del lavoro in cui il padrone vuole ancora essere chiamato padrone come in novecento film, anzi due film, di cui consiglio a tutti i nostri operatori sociali, eccetera, di organizzare la visione per i nostri amici stranieri che stanno lavorando nei campi, che dà proprio l'idea di che cosa è stata la storia delle relazioni di lavoro nel nostro paese. Insomma, lottare contro il padrone cambiando, padrone insomma che è ancora un retaggio medievale insomma, nei campi e non l'insulto che la classe operaia organizzata sputa in faccia o tira in faccia a chi non rispetta le regole e i diritti umani. Dario, ti dico soltanto una cosa perché ovviamente anche a noi colpisce quotidianamente questa cosa. ti dico che a proposito di parole degli anni settanta, a me piace moltissimo citare i compagnons de route, quelli sostanzialmente i compagni, ecco, ribaltando e cercando delle parole, se vuoi, della fine del secolo scorso ehm ce n'è ancora qualcuna alla quale siamo affezionati, in questo caso i compagni di strada e per noi in questo momento sono i compagni di strada ai quali con i quali facciamo un pezzo di percorso. Molte grazie. Allora questa mia riflessione non era prevista nella tempistica, quindi me ne scuso e troverò il modo di recuperare il tempo che non dovrà recuperarlo i relatori ovviamente e do adesso la parola a Angelo Rapponi di Caritas che ci parlerà delle loro esperienze di inclusione sociale sul territorio. Prego, i tempi sono gli stessi, alla parola. Grazie Dario e buonasera a tutti. Provo a condividere lo schermo perché per comodità e anche per cercare di stare nei tempi avevo preparato una cosa che vediamo se eccolo che è. E' abilitato giusto Mattia? Sì sì sono abilitato. Ok. Vediamo se andrà. Si vede eh? Perfetto sì sì non lo volevo mettere in modalità a schermo intero. Esatto. Quando ho ricevuto l'invito tra l'altro noi siamo partner del progetto GetUp e quindi abbiamo fatto delle attività soprattutto nelle scuole e all'interno del progetto mi chiedevo quale potesse essere lo specifico ecco della nostra Caritas diocesana cosa avremmo potuto dire di originale che in qualche modo caratterizzasse anche la nostra eh la nostra azione non solo appunto all'interno del progetto ma anche su questo territorio e di fatto ecco quando si pensa a Caritas si pensano a tante cose e sicuramente siamo tra gli organismi le realtà maggiormente citate rispetto a quegli interventi nel sociale nell'assistenza ovviamente di matrice ecclesiale siamo l'organismo eh cosiddetto pastorale della chiesa di questa diocesi di Latina Terracina Senza e Priverno e e sostanzialmente ecco volevo con questo intervento provare a dire qualcosa così che mi venisse dall'esperienza nostra a confronto con quello che è il tema dell'inclusione sociale insomma che ho definito una condizione sempre in bilico tra povertà e diritti negati quindi questo nostro confronto quotidiano col tema della povertà con le persone cosiddette cosiddette poveri e eh i loro diritti negati c'era un video perché non sento niente forse si è è la connessione eh la mia no 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 Angelo non ti sentiamo Angelo se mi senti consiglio di togli il video così dovrebbe essere più agile il tuo è bloccata anche l'immagine di lui adesso è saltato tutto va bene allora eh penso che sia uscito per rientrare allora eh passerei poi lo recuperiamo ovviamente no non passerei niente perché abbiamo finito questo gruppo e allora intanto c'è qualche domanda per l'intervento precedente di tempi moderni possiamo possiamo recuperare forse in questo modo se c'è qualche domanda riempiamo il buco se no lo lasciamo il buco così com'è ok allora aspettiamo che entra ecco Angelo scusatemi ma sul più bello come al solito salta sempre la connessione però approfitto un secondo per spostare la no vabbè ci riproviamo dai spero che non si riperda insomma ecco dicevo eh questo video era molto eh molto intuitivo e mi dava però ecco anche un'idea di una di una bella prassi ecco un comune che poteva in qualche modo eh aveva fatto un qualcosa di molto intelligente adesso non vediamo la presentazione ah quindi ce ne siamo i potenti mezzi allora la devo ricondividere scusatemi ma siamo veramente no vabbè questo è normale ma tu avevi provato a lanciare il video? no 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 il video non l'ho lanciato proprio per evitare ok spero veramente che però con la adesso dovreste rivedere anche la sì fatto ok ci riproviamo non è a schermo completo adesso la rimandiamo a schermo completo ok allora quindi confrontandomi con la parola inclusione insomma avevo effettivamente trovato tutta una serie di definizioni insomma però ecco la cosa che mi interessava e su cui mi ero soffermato era soprattutto questo inclusione come appartenere a qualcosa sia esso un gruppo di persone un'istituzione e sentirsi accolti ecco questo tema dell'accoglienza è un tema molto caro a Caritas sicuramente ma è anche un tema che nelle nostre attività è un tema che ritorna sempre le persone gli esclusi dalla società per i tanti motivi insomma che poi è facile ritrovare in tutte le definizioni sono di fatto delle persone discriminate sulle quali noi quando facciamo azione di inclusione sociale veramente abbiamo l'obiettivo di eliminarle tutte queste discriminazioni tutte queste forme e nel rispetto della diversità di ciascuno questa è un'attività un'azione che effettivamente non è facile tenere presente sempre ecco noi come forse sapete insomma siamo un organismo dove l'attività di un servizio di volontariato è spesso affidata a persone e così anche molto avanti negli anni che magari ecco non riescono a tenere presente tutte queste attenzioni e questa in particolare dell'attenzione ad evitare le forme di discriminazione perché comunque sono persone che di fatto che non hanno competenze specifiche molto spesso persone la cui formazione va continuamente seguita accompagnata però ecco che nell'incontro con l'altro ci sia soprattutto nell'altro povero ci sia questa consapevolezza che le persone vanno rispettate nella loro diversità è veramente una nostra attenzione che direi soprattutto ecco oggi in questi ultimi tempi soprattutto cerchiamo di curare con particolare attenzione perché comunque ecco siamo tra quelli che maggiormente studiano anche il fenomeno della povertà a livello locale a livello nazionale internazionale per cui sicuramente l'esclusione è un problema di tutti non risparmia l'Europa questo 24% della popolazione ha rischio di povertà esclusione sociale i dati Istat riguardanti all'Italia riguardanti l'Italia anche i più recenti insomma ci segnalano che questa povertà assoluta continua a crescere 2 milioni di famiglie povere 5,6 milioni quelle interessate comunque al fenomeno della povertà cifre spaventose in questo tempo di epidemia veramente gravate di tutta una serie di conseguenze legate alla scarsità delle risorse economiche che poi si traducono anche in necessità di ridurre i consumi quindi una discriminazione di fatto che si crea semplicemente vivendo la vita di tutti i giorni questo vale per tutti obiettivamente quindi l'incertezza per il futuro l'ansia per il lavoro perso e da ricercare di nuovo e questa ricerca di aiuti che è effettivamente vissuta con molta ansia da tantissime persone e incrociando la novità di questa di questa recente epidemia molti nuovi ingressi e così li ho definiti nelle liste di coloro che vengono a chiederci aiuto persone i cosiddetti nuovi poveri quelli non abituati a chiedere ne abbiamo sentito tante volte parlare quelli che non conoscono i meccanismi anche per ricevere gli aiuti quelli che faticano persino a cercare un contatto con la Caritas piuttosto che con i servizi perché proprio è fuori dal loro da loro vivere e pensare comune per non parlare di quelli che poi sono rimasti tagliati fuori da tutte le varie forme di ristoro qui a Latina abbiamo fatto l'assessore lo sa bene una grandissima e lunghissima esperienza di supporto per esempio ai lavoratori dello spettacolo viaggiante ai circenzi ai giostrai a queste comunità molto numerose di persone famiglie con tanto di animali a seguito che si sono visti nel corso dei mesi completamente esclusi da qualunque forma di ristoro per tutti questi abbiamo cercato di mettere insieme all'azione di sostegno di supporto veramente anche un'azione educativa nei confronti dei nostri stessi operatori e volontari vi racconto ecco brevemente alcune delle esperienze più significative dal punto di vista del nostro lavoro per l'inclusione cioè quelle forse meno tradizionali che però sono anche un po' poi il fiore all'occhiel con l'ultima nata e questo cooperadad questo accordo nazionale tra Caritas Italiana e l'ICREA l'istituto di credito delle banche di credito cooperativo rivolto praticamente ai nuclei familiari in difficoltà con figli in età scolare finalizzato all'acquisto di strumenti per seguire la didattica e per evitare le forme di maggiorizzazione legate appunto a queste difficoltà cooperadad de mira all'inclusione sociale comprendendo in particolar modo le famiglie con difficoltà di natura economica e sociale è una forma di microprestito finalizzata all'acquisto di materiale scolastico ed elettronico quindi le persone si impegnano a restituire questi soldi accompagnate anche in percorsi di educazione finanziaria dedicati anche per far conoscere loro come evitare di indebitarsi ulteriormente abbiamo poi ecco già ad alcuni anni i progetti previsti diciamo dai diversi bandi dell'impresa sociale con i bambini finalizzati al contrasto alla povertà educativa qui a Latina progetto tutti a scuola proprio che vuole incidere su questo circolo vizioso della riproduzione della povertà educativa alleando cercando alleanze tra tutti i soggetti della comunità educante sono stati coinvolti le scuole le istituzioni locali il terzo settore i genitori gli adolescenti stessi e tra questi anche molti molti ragazzi figli di immigrati che vivono su questo territorio e ne frequentano le scuole con l'obiettivo della riduzione della dispersione dell'abbandono scolastico l'educazione alle relazioni e l'affettività e anche il potenziamento mi ha cercato mi ha cercato mi scusi ma ce l'avevo silenzioso sono Sergio e anche il potenziamento della comunità educante quindi in toto nella sua interezza il progetto radici di comunità stesso ambito stesso ente finanziatore in quartieri della città di Latina quartieri anche soprattutto quartieri periferici per costruire e aprire nuovi spazi di espressione e apprendimento per i bambini ampliando l'offerta educativa con le tante difficoltà legate alla chiusura delle scuole e dell'attività didattica in presenza che comunque è andata avanti nel corso di questi mesi proprio per favorire anche attività di pressione di lobby a livello locale dove le famiglie localmente sui singoli territori possano comunque anche farsi portavoce in un modo molto chiaro evidente delle loro esigenze di quelle dei loro figli e magari anche condividendo scelte con le amministrazioni locali Latina Cisterna ecco due tra i comuni dove abbiamo realizzato questo tipo di attività penso poi agli esclusi per eccellenza quelli rispetto ecco rispetto ai quali il tema dell'inclusione si pone con una visibilità direi drastica totale cioè quelli che stanno oltre le barriere di un carcere le loro famiglie che vivono invece sui territori quindi questa attivazione di attraverso una convenzione con la casa circondaria di Latina della possibilità di essere all'interno con un centro di ascolto all'interno del carcere sapete un minuto sì popolazione detenuta Latina grosse percentuali di migranti all'interno persone isolate senza famiglie senza possibilità di comunicare ebbene con questi con queste persone essere a fianco a loro alle loro famiglie favorire le comunicazioni favorire comunque le possibili anche uscite dal carcere lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ospitati nei nostri servizi in particolare alla mensa di Latina proprio perché chi potesse uscire chi poteva uscire potesse farlo magari ecco in affidamento in prova ai servizi compresa con l'ultima misura quella della della messa alla prova il progetto microgridido alle famiglie anch'esso in funzione proprio dell'uscita accompagnata sostenuta con tanto di finalità direi veramente educativa perché ognuno potesse essere con un minimo aiuto e risorsa per se stesso e infine ecco i progetti per i lavoratori migranti specifici contro lo sfruttamento agricolo gli ultimi progetti fami a cui stiamo partecipando dopo l'esperienza ormai di diversi anni nel progetto presidio di Caritas Italiana con i progetti fami Radix e Sipla con Kairos e con tanti altri sul nostro territorio però ecco poi la Caritas è anche tutto il resto e qui chiudo insomma questo lavoro di fondo al di là dei progetti che facciamo con le comunità perché veramente le comunità siano esse stesse nella totalità protagoniste di quella che chiamiamo la testimonianza comunitaria della carità attraverso i servizi le distribuzioni di aiuti diretti le menze e tutto il resto grazie bene molto grazie molto grazie Angelo e con questa presentazione che mette insieme le marginalità le difficoltà a prescindere da passaporti e da e da appartenenze ad ogni genere insomma mentre la narrazione diffusa nel nostro paese che ci sono servizi che spetterebbero ai poveri invece si fa neanche si dice si dà solo ad alcuni poveri si dà agli immigrati non ai poveri come invece questo approccio che parte dalla condizione umana e della persona non dalla sua appartenenza o provenienza che è un elemento direi che anima poi tutti quelli che lavorano ciò che ci convoca qui però diciamo il percorso storico anche ideale di Caritas insomma costituisce una delle colonne vertebrali anche uno dei riferimenti culturali anche per il mondo laico e di altre ispirazioni benissimo allora con una ammirevole tempistica garantita dal moderatore di questo incontro siamo arrivati nei tempi previsti all'ultimo gruppo di presentazioni che riguardano poi le istituzioni fino adesso abbiamo visto le associazioni la società civile le organizzazioni del territorio però è chiaro che tutto questo funziona e riesce ad avere una sua espressione una sua strutturazione in termini di progetto di società che abbiamo in mente se interagisce si incontra con le istituzioni e quindi abbiamo la dottoressa Rita Visini della regione Lazio e l'assessore Patrizia Ciccarelli del comune di Latina impegnate su politiche che affrontino i problemi legati all'immigrazione e quindi i problemi quotidiani e di prospettiva dei migranti delle loro famiglie e quindi è interessante anzi è indispensabile conoscere quali sono le politiche che si portano avanti in questo campo quali le prospettive con una particolare attenzione ovviamente al territorio al territorio pontino abbiamo circa una dozzina di minuti ammesso che ciò abbia un senso che uno sia capace di organizzarsi su numeri di questo tipo diciamo 12 fra i 10 e i 15 minuti a testa siamo ovviamente interessatissimi ad ascoltare e poi direi a questo punto di dedicare l'ultima parte dell'incontro a domande interventi che possono che possono riguardare poi tutti gli espositori cominciando da una domanda di Andrea Stocchiero che io appunto metterei come prima domanda per la rush finale che è ci sono segnali di speranza per l'inclusione sociale nell'agropontino ecco questa è poi la domanda da cui è partito questo incontro e con cui sicuramente potrebbe trovare in una sua risposta diciamo un'ottima conclusione quindi ce la teniamo da parte per la per quando le presentazioni saranno concluse e comincio dando la parola alla dottoressa Visini prego Regione Lazio sì buonasera allora un quarto d'ora diciamo non è utile fare sì 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 no io sono prego forse era previsto prima l'intervento della dottoressa Ciccarelli beh oddio veramente ah beh va bene prego Patrizia vai 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 assolutamente no tranquilli tranquilli io intervengo volentieri dopo dopo la la dottoressa Visini tranquillamente allora intanto buonasera a tutti e grazie per questa immersione un ritorno al passato recente e che chiaramente risveglia eh anche dei ricordi eh se vogliamo molto belli ma altri anche un po' sofferti perché mentre si parlava di immigrati di immigrazione in generale mi veniva in mente che il mio primo atto in in consiglio regionale è stata proprio la la presentazione di una proposta di legge eh per l'istituzione della figura del garante per i rifugiati dei diritti dei rifugiati una una proposta fatta di soli tre articoli ma che venne cassata non appena mi alzai per presentarla quindi venne boicottata immediatamente però ecco era era una proposta quella molto interessante perché intanto eh dava la possibilità a tutto il territorio regionale di avere una figura che potesse in qualche modo garantire una figura tra l'altro del tutto gratuita avevamo già eh riscontrato la disponibilità di diverse figure ehm capaci nel nel settore e che avevano messo a disposizione la loro professionalità a livello gratuito per questo compito ma che purtroppo per motivi chiaramente politici venne eh venne cassato e questo ahimè eh a me quello che viene da pensare rispetto alle cose che si si sono dette è che purtroppo tutto quanto concerne la difesa e dei diritti delle dei diritti fondamentali delle persone non dovrebbe avere un colore politico cosa che invece purtroppo poi all'interno delle istituzioni avviene puntualmente eh da una parte eh diciamo è un problema politico dall'altro un problema culturale eh io mi ricordo benissimo che ehm ho faticato tantissimo per far passare quella che poi è stata eh quella proposta di legge che è diventata legge la legge undici del duemilasedici che recepiva la tre due otto dopo venti anni noi eravamo una delle ultime regioni e voi immaginate il Lazio con Roma capitale d'Italia eccetera una legge fondamentale che tutela le persone in tutta la loro interezza ed era una legge che ancora doveva essere recepita nel duemila nel duemilatredici ma questo perché perché purtroppo e questo faccio diciamo così lo dico tranquillamente faccio ammenda perché di fatto anche io diciamo faccio politica però è una è un aspetto questo che alla politica interessa poco è un tema da campagna elettorale punto e basta io devo dire la presenza di Patrizia Ciccarelli stasera invece glielo dico sempre pubblicamente da lei ho ricevuto diciamo così le più grandi soddisfazioni dopo l'approvazione della legge perché purtroppo il territorio pontino è un territorio che è molto diciamo indietro culturalmente rispetto a questi temi lo era adesso cioè non so adesso bene come si è evoluta la situazione però nel momento in cui ero io alla guida diciamo così delle politiche sociali a livello regionale il livello culturale era abbastanza diciamo così appiattito ecco ma non parlo delle associazioni del terzo settore ovviamente parlo delle istituzioni e questo Patrizia lo sa benissimo perché quando noi arrivammo io trovai un bilancio regionale quasi a zero sulle politiche sociali feci una ricognizione su tutti i distretti e mi accorsi che il 50% dei distretti all'interno della regione i distretti socioassistenziali ovviamente non avevano speso parecchi dei fondi che gli erano stati stanziati nell'arco di cinque anni e il caso di Latina fu proprio eclatante perché Latina in tutto il Lazio era il Patrizia ancora doveva arrivare era il distretto che in cinque anni non aveva speso undici milioni di euro di fondi che la regione aveva stanziato sulle politiche sociali quindi immaginate voi questo è questo è diciamo così il peccato è un peccato originale questo perché tu da lì non diciamo così significa che tu istituzione non ti interessi della pelle delle persone quindi dei bisogni più primari dei bisogni anche secondari comunque non ti interessi delle persone della persona in sé e quindi diciamo così da lì Latina è stato diciamo così il comune che non aveva speso più di lutti ma poi a scendere c'era più del 50% tutti gli altri comuni chi non aveva speso diciamo così svariati milioni altri centinaia di mila euro e così via però ecco questo stava diciamo così a disegnare una mappa in cui appunto ripeto che il livello culturale delle istituzioni diciamo è alquanto scarso chiaramente la legge che abbiamo approvato è una legge che per questa regione voleva dire rivoluzionare un po' il sistema perché se fino al duemilatredici c'erano i comuni capofila ancora oggi in realtà perché non tutti hanno firmato le cosiddette convenzioni hanno fatto hanno creato i consorzi e così via però significava dire che c'era il comune capofila che prendeva lo stanziamento dalla regione e a sua volta quel comune lo doveva poi ripartire fra i comuni del distretto ma questo avveniva in maniera talmente schematica senza fare una ricognizione delle necessità senza che i sindaci si sedessero ad un tavolo e senza che ci fosse la presenza o la diciamo così del terzo settore che facesse una seria coprogettazione sulle necessità dei territori la presenza dei sindacati rivalutare la presenza dei sindacati anche in questo cosa che era inesistente Patrizia ecco per questo dico Patrizia è stata rappresenta il comune che più di tutti poi alla fine ci ha dato maggiori soddisfazioni perché quando loro sono arrivati hanno preso in mano la situazione hanno dato vita a un distretto così come la legge richiedeva e in breve tempo hanno ripianato diciamo così quel tra virgolette quel debito che il comune appunto presentava il comune il distretto presentava io devo dire che sul tema poi dei migranti cioè ancora di più è un tema che diciamo così rispetto a anzi no vi dico questo io abito a Terracina sapete bene che i fenomeni purtroppo di caporalato in questo territorio sono molto frequenti la cosa più triste la cosa più triste è vedere come le istituzioni su questo territorio o comunque l'amministrazione locale su questi territori o nega o sminuisce questi fenomeni di diciamo così di negazione dei diritti delle persone e questa è una cosa tristissima perché mi chiedo se il principio primario dell'istituzione di un'amministrazione locale e fare in modo di amministrare la cosa pubblica e far sì che tutti possano godere alla stessa maniera del bene comune è ovvio che vai a negare un diritto a persone che comunque abitano in questo territorio molti di questi sono inseriti anche diciamo così nelle anagrafi e pagano le tasse e subiscono puntualmente delle negazioni quindi ecco che dire io mi auguro mi è stato riferito tra l'altro che per esempio il distretto di fondi sta preparando una bozza di piano sociale di zona dentro cui è completamente assente l'aspetto sulle migrazioni questo è terribile è terribile io mi auguro che qualcuno anche le stesse associazioni facciano sentire la loro voce per inserire un tavolo di consultazione su questo tema anche perché io l'ho ripetuto a sfinimento mi aggancio anche a quanto diceva poc'anzi Angelo quando parlava delle diversità Angelo Raponi siamo la diversità è una ricchezza è ovvio tutti abbiamo la possibilità di poter contribuire al bene comune al bene dei territori che abitiamo ognuno per le proprie possibilità e sicuramente anche la persona che pensiamo sia lo scarto ultimo della società sicuramente ha una ricchezza che io che magari assumo una posizione molto diciamo molto diversa e molto più agiata quella quella ricchezza lì non ce l'ho e quindi non la posso mettere a disposizione della comunità quindi ogni persona è una ricchezza in sé ogni persona ha qualcosa da dare anche anche appunto ripeto lo scarto più ultimo di questa società è stato in quegli anni un lavoro durissimo ricordo benissimo che quando abbiamo dato vita a questi nuovi piani di zona sulla diciamo sulla base della nuova legge quindi con la creazione con l'invito alla creazione dei cosiddetti consorsi attraverso delle convenzioni eccetera c'è stato molto da faticare soprattutto in quelle zone dove questi temi erano molto più sentiti devo dire che nel sud diciamo nell'agropontino da latina in giù questo tema diciamo non è che possa che interessi più di tanto e però ecco io ricordo che c'erano tante discussioni fra i comuni dei distretti dove appunto si volevano si volevano cominciare con i percorsi dei consorsi e ricordo di avere partecipato a diversi tavoli per diramare molte molte diciamo così molti contrasti però alla fine ci sono riusciti ad oggi comuni politicamente gestiti politicamente da forze diverse tra loro però dentro uno stesso distretto quindi dentro uno stesso consorzio oggi invece danno vita politiche sociali sicuramente molto più apprezzabili che non prima chiaramente la rivoluzione c'è stata perché che cosa fa che cosa chiede la nuova legge chiede di che i fondi non vengano versati nel comune nelle casse del comune capofila mentre prima appunto c'era il comune capofila che prendeva quei fondi li metteva li appoggiava nel bilancio comunale per poi suddividerli e questo ripeto avveniva diciamo in maniera molto arbitraria molto spesso gestita dai dai funzionari degli uffici di distretto nel consorzio la diciamo così la la il meccanismo è molto diverso perché il consorzio si assume un'entità giuridica ha una cassa diciamo propria del distretto e per gestire questi fondi assolutamente i comuni devono essere responsabilizzati alla stessa maniera quindi sono tutti i sindaci che in qualche modo si devono elevare al di sopra del proprio territorio che diciamo amministrato e devono sentirsi parte di una comunità più ampia che è quella del distretto accanto a loro ci sono le ci sono scusate il terzo settore ci sta l'asle ci stanno i sindacati e sulla base poi delle singole tematiche che si vanno a diciamo così a visionare diciamo così ad analizzare si chiamano altrettanti interlocutori che possono servire a me viene in mente per esempio tutto il tema dell'integrazione sociosanitaria che è rivoluzionaria e vedete quanto sta ritornando adesso questa visione in questo momento particolare di pandemia perché abbiamo visto che cosa significa un territorio senza una medicina territoriale quindi in questo diciamo in questo contesto le politiche sociali insieme a una sanità territoriale possono rivoluzionare il territorio stesso e garantire la salute dei cittadini tutti quindi ecco io mi auguro che questa diciamo questa possibilità anche solo di conoscere la novità ma anche la la trasformazione che questa legge ha potuto trasferire su questo territorio venga diciamo così fatta venga divulgata il più possibile perché davvero ripeto ancora oggi qui nel territorio del distretto di fondi questo è ancora poco 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 sviluppato poco sentito grazie e io lascio la parola a Patrizia che sicuramente avrà tanto 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 da raccontare perché davvero il comune di Latina con il loro avvento ha cambiato volto e questo lo dico senza alcun problema al di là degli schieramenti politici in questo contesto non mi interessa perché ripeto le politiche sociali non devono avere colore politico grazie bene molte grazie dottoressa Vizini io adesso sono sicuro che il vostro coordinamento dal generale al particolare funzionerà benissimo e farà dimenticare il mio errore nel dare la parola per cui dall'errore invece nasce lo sviluppo perché poi sono i mutamenti imprevisti nel DNA che danno poi luogo all'evoluzione quindi anche questo scambio a me sembra di grande interesse il tema e impressiona il tema della invisibilità che le comunità migranti hanno rispetto alle istituzioni peraltro in territorio ovviamente non di tutte parliamo dell'agropontino costituito da diversi comuni salvo quando poi si teme che migranti stanziali provenienti dal da anni ormai qui provenienti dal subcontinente indiano possano essere portatori della variante indiana allora lì sì che se ne parla molto si scoprono dopodiché il tema torna come fiume carsico sotto fino alla prossima emergenza assessore Ciccarelli a lei la parola grazie grazie io devo dire è stato un piacere ascoltare Rita perché di questi tempi sentirsi fare queste carezze è davvero è davvero oro grazie davvero Rita ma in realtà noi dobbiamo essere tutti grati a Rita per quello che ha fatto in regione e devo dire che la 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 sua il suo lavoro non è stato soltanto il lavoro che lei ha descritto di finalmente di recepire di riuscire a mettere a mettere sul campo tutti quegli strumenti che servivano a recepire con un ritardo incredibile la legge più inapplicata che esiste in Italia che è e la legge più bella anche la legge 328 che insomma vede la luce nel Lazio ecco da quando da quando è arrivata è arrivata come assessora alla regione Rita ma non è soltanto questo lei ha colto e non lo dico per plageria è proprio un dato politico è un dato politico che vale insomma anche rispetto a un'analisi critica che posso fare oggi lei ha colto invece la necessità di non lasciare questo argomento ai meri adempimenti amministrativi cioè ho fatto la legge adesso sta a voi applicarla ma presidiava il territorio ed era molto severa nel farlo cioè era presente sul territorio e vigilava perché quei processi che erano processi che venivano richiesti processi culturali di rivoluzione di mentalità di abbandono di abitudini di lavoro anche no molto settoriali e invece riuscire a rischiare e come dire a correre il rischio no sperimentando nuovi modi di lavorare di stare insieme frequentando i famosi confini dove finisce la mia competenza e inizia la tua e a proposito di migranti sappiamo che i confini quando non sono frequentati no e occupati da muri sono invece luoghi estremamente generativi no di competenze di saperi le mescolanze creano creano nuove capacità anche di produrre significati e risposte a bisogni che in realtà prima non sapevamo come come interpretare e come e come soddisfare e bisogni e desideri direi non solo bisogni io diciamo il tema sarebbe molto molto complicato ma è lungo però ho scelto di stare dentro un confine dentro un campo soffermandomi su tre concetti essenzialmente che non è detto che affronterò separatamente ma si mescoleranno tra loro il primo riguarda il ruolo che un ente locale può svolgere e anzi il modo con il quale un ente locale può guarda ai fenomeni migratori può fare la differenza può fare la differenza nel livello di benessere che si produce in una determinata comunità questo è un dato che abbiamo sperimentato soprattutto nel nostro territorio che è anche un territorio particolare perché i fenomeni migratori adesso ci hanno abituati a viverli come cosa eccezionale ma in realtà i fenomeni migratori sono fenomeni normali le città nascono da fenomeni migratori altrimenti non ci sarebbero e forse bisognerebbe viverli con la capacità semmai di governarli questi fenomeni e farli nell'accoglienza farli diventare opportunità questo è vero per tutte le città in particolare una città come Latina che ha una recente storia e quindi ha una memoria ancora viva del del proprio fenomeno migratorio ogni famiglia ha il suo interno il ricordo di che cosa ha significato lo stradicamento la fatica di integrarsi su un territorio a volte respingente ebbene questa cosa diventa nel momento in cui diventa anche una identità diventa un modo per rivisitare la propria storia e riguardarla attraverso diciamo così degli occhi che ci consentono di fare di Latina una città non più la città di fondazione eccetera eccetera con tutta questa retorica ma la città plurale la città dell'accoglienza anche per le vicende che ci sono state che l'hanno vista spesso protagonista di questa cosa quindi questo è il primo concetto il modo con cui la città guarda il fenomeno fa la differenza per tutta la comunità e non solo come accoglienza la seconda cosa la stagione che ha aperto Rita e e nella regione Lazio quindi la nuova stagione del della riforma del welfare del Lazio ha rappresentato un'occasione per coniugare per integrare il welcome con il welfare quando è cominciata la nostra consigliatura era il duemilasedici c'erano due cose che diciamo occupavano l'attenzione la prima era diciamo questa cascata questo precipitato di novità sulla questione del welfare la legge undice poi tutto quello che ne è scaturito il piano sociale regionale eccetera eccetera e poi gli sbarchi nel duemilasedici sembrava no che ci fosse l'invasione incredibile in realtà erano dei numeri assolutamente governabili qual era il problema il problema che anche se si sapeva c'erano delle previsioni che tra l'altro venivano rispettate rispetto agli arrivi il tutto era eh gestito nella massima nella massima diciamo improvvisazione con un approccio emergenziale affidando non ai comuni non ai territori non a chi governa il territorio ma chi lo controlla invece quindi alle prefetture in una maniera molto improvvisata che determinava una percezione no di di preoccupazione a quel punto noi avevamo due possibilità tra l'altro appena arrivati avevamo due possibilità o quello come dire di girarci dall'altra parte e dire ma la competenza della prefettura quindi aggiungerci al coro di quelli che si lamentavano nei confronti del prefetto oppure quello di rivendicare di portare di riportare di avvocare a noi una competenza e un ruolo ed era quello che abbiamo fatto quindi abbiamo diciamo così scelto di prendere sul serio la stagione delle riforme del welfare e di collegarlo al diciamo al welcome quindi alla diciamo alla alla centralità della relazione perché poi il welcome è questo è relazione no e quindi questa cosa questo concetto ci sembrava assolutamente coerente con una riforma che metteva al centro il superamento dell'assistenzialismo no del diciamo del banco mat dei servizi dato così tanto per dare ho fatto detto eccetera senza preoccuparmi dell'effetto quindi sostituire l'assistenzialismo con una relazione d'aiuto che fosse una relazione che come dire restituisse svolgesse un ruolo di capacitazione no quindi di liberare le persone dal bisogno queste due cose e si integravano cioè ci convincevano del fatto che quindi welfare non era una coperta troppo corta che a secondo di dove la tiravi no se ti occupavi degli stranieri lasciavi fuori gli italiani o viceversa ma in realtà era un approccio a dei problemi e più i problemi erano complessi e più nel momento in cui riaffrontavi trovavi le soluzioni sviluppavi sedimentavi know-how che poi serviva a tutta la comunità se una comunità è accogliente nei confronti di persone che vengono da un altro paese con delle storie particolari eccetera eccetera quindi con una complessità particolare è accogliente nei confronti di tutti gli altri le persone con disabilità di persone anziane cioè di tutti quelli che non riescono a tenere il passo rispetto che sono fuori dallo stereotipo diciamo così e questo è quello su cui noi abbiamo lavorato è per questo che questa cosa ci ha poi spronato a crederci davvero a farci attraversare da questo portato di novità e quindi è vero quello che diceva Rita non è merito mio è merito di tutto il comitato dei sindaci la prima volta che ci riunivamo era un tavolo di negoziazione prima ci si litigava i soldi perché venivano divisi i soldi ognuno faceva per sé poi quando abbiamo cominciato a programmare i servizi ci si negoziavano le ore le ore degli operatori siamo con fatica riusciti a passare ad una programmazione del servizio e quindi a vedere il territorio nella sua interezza perché poi le persone vivono e a volte ci sono persone che abbiano un marciapiede comune e la strada fa da confine nel marciapiede dell'altro c'è l'altro comune quindi riuscire a programmare collegandosi a un'analisi di contesto e quindi abbiamo cominciato a chiedere agli esperti se ci aiutavano a capire quello che succedeva nel territorio abbandonando diciamo così i capitolati copia e incolla ci sono ci sono qui le cooperative Astrolabio sa bene che fatica abbiamo fatto a modificare anche peraltro in piena pandemia completamente il modo di programmare i servizi e anche di come dire collegare la tipologia di servizio ad una particolare procedura quindi non sempre scegliendo anzi scegliendo pochissimo il codice degli appalti solo per determinate cose e invece frequentando moltissimo il codice del terzo settore e utilizzando la coprogettazione c'è tutto questo che c'entra poi tutto questo fa la differenza tutto questo fa la qualità perché capire che diciamo organizzare i servizi deve significare riuscire a portare a sistema tutto quello che nel territorio si muove perché il lavoro che fa Caritas è un lavoro preziosissimo ed è deve essere collegato al lavoro che fa il nostro segretariato sociale il nostro servizio professionale il lavoro che facciamo diciamo guardando agli ultimi e quindi togliendoli dall'invisibilità è un lavoro che ci vede alleati in questo con Caritas con Croce Rossa quando c'era quando c'era emergency con emergency cioè facendo una rete che finalmente fosse una rete che davvero riusciva a impattare poi a e a determinare delle delle modifiche comunque detto ciò la terza questione che volevo dire a che punto poi siamo oggi quindi tutto quello che è successo che cosa ha determinato e oggi siamo davvero in un punto cruciale perché ci sono state diciamo così in particolare tra il 2020 e sì nel 2020 una serie di dopo nel 2019 c'è stato il piano sociale finalmente varato nel 2020 ci sono state un'altra serie di normative ma io ne voglio citare solo una che è la DGR 584 del 6 agosto del 2020 che è una roba che uno diceva in realtà dovrebbe essere una sorta di vademecum che dobbiamo tenere sempre in tasca e ogni tanto andarlo a leggere perché è stato un modo per riportare a sistema tutto quello che fino ad ora era avvenuto e creare un proprio un nuovo nomenclatore di tutti i servizi quindi che non più erano servizi che guardavano alle categorie quindi servizi per gli anziani servizi per minori servizi per disabili quindi collocando cioè negando la specificità della persona o la complessità di una persona ma diciamo coprendo questa centralità della persona con la problematica della persona quindi i migranti erano migranti i servizi erano essere per i migranti come se un migrante non dovesse poi andare all'anagrafe o non dovesse andare al servizio professionale eccetera eccetera quindi invece con questa DGR si è andata a recuperare anche diciamo così un un lavoro che si sta facendo su piano nazionale per riuscire finalmente a guardare ai livelli di prestazione quindi i servizi devono essere eh diciamo così organizzati non più rispetto a a a chi ehm li riceve ma rispetto al tipo alla tipologia di prestazione dicendo che certi servizi sono servizi essenziali cioè sono inerudibili i famosi l'EPS quelli diciamo che dalla tre due otto non si sono mai riusciti a concretizzare che finalmente adesso ce li abbiamo almeno come individuazione bene questi servizi prevedono poi che sono diciamo ehm essenzialmente mh mh cinque cinque categorie diciamo le macro aree ma chiamiamole così che sono quelli dell'accesso quindi il segretario sociale il PUA che è il punto unico d'accesso laddove c'è anche l'aspetto eh sociale e sanitario insieme pensiamo alla disabilità per esempio eh il eh il servizio professionale che invece fa una presa in carico e questo diciamo una prima macro area importante la seconda macro area sono le misure sono quelle misure per il sostegno e e e e l'inclusione sociale quindi pensiamo eh a tutti i contributi economici ma soprattutto ai servizi di prossimità cioè a quei servizi che sono i servizi per eh di assistenza domiciliare eh i servizi cioè che mh che cercano di mantenere eh l'autonomia delle persone e la loro capacità di vivere nel proprio domicilio prevenendo qualunque tipo di istituzionalizzazione il terzo il terzo filone riguarda invece eh le misure appunto di eh sostegno per la non autosufficienza eccetera eccetera il quarto riguarda riguarda invece i centri di diurni di semi residenziali diciamo così sia per disabili sia per minori mh e poi il quinto riguarda le strutture invece le strutture comunitarie e residenziali eh a questo si aggiungerebbe una sesta macroarea che è quella diciamo così della eh delle azioni di eh delle azioni di sistema ora queste macroare e lo dico perché dietro c'è una un importante diciamo lavoro che sta facendo la regione dietro queste macroare ehm ci sono poi i profili dell'utenza quindi non è che poi dopo ci dimentichiamo che ci sono gli anziani minori però ragioniamo rispetto alle prestazioni ora eh la cosa importante che va sottolineata che ai sei profili eh delle 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 dell'utenza che erano stabiliti e individuati nel decreto ministeriale che erano uno famiglie minori due anziani e non eh anziani autosufficienti tre persone con disabilità quattro anziani non autosufficienti cinque povertà e sei disagio eh disagio adulto eh ci sono aggiunti un settimo un ottavo il settimo la Lazio ha deciso di aggiungere un settimo un ottavo categoria e sono appunto le donne vittime di violenza e come ottavo gli immigrati e con una dizione che non mi piace che però hanno usato vabbè i nomadi e cioè eh rom ci sinti e camminanti perché non mi piace perché ehm era importante individuare questa questa realtà come una forma di migrazione anch'essa perché i nomadi in realtà non esistono nel senso che poi alla fine c'è un andare e tornare dal proprio paese per questioni di lavoro più che altro quindi se non se non leggiamo la la situazione poi è difficile che organizziamo risposte eh efficaci ora questa scelta è una scelta importante perché questo significa che noi non abbiamo soltanto l'onere diciamo così di organizzare servizi in generale che poi devono essere fruiti anche dalle persone straniere dalla comunità straniera ma dobbiamo anche puntare a dei servizi specifici che servono cioè a a diciamo così a a ad avere un impatto positivo su quelle problematiche eh faccio un esempio il pronto intervento sociale per esempio che è un servizio in emergenza anche quello un un Leps per esempio è un servizio che sicuramente si rivolge alla popolazione di in povertà estrema ma sicuramente si rivolge anche ai migranti in maniera specifica perché in realtà con tutta una serie di eh situazioni sbagliate scelte sbagliate sono stati prodotti poi no delle delle ripercussioni negative in questa in questa comunità che hanno determinato anche eh un degrado particolare per cui c'è stato bisogno di un intervento ora ehm tutto ciò che cosa significa? Significa che adesso noi siamo di fronte non solo a questa di nuovo ehm il cambio di passo rispetto alla nomenclatura che ci consentirà di parlare un linguaggio sui servizi che è un linguaggio ehm uguale a quello che si parla nel resto della nazione e questo significherà anche una possibile comparazione no? con le altre realtà ma significa anche che finalmente possiamo fare una riclassificazione della spesa perché finora sulla spesa sociale non ci si capiva nulla e finalmente adesso con questo nomenclatore nuovo possiamo rivisitare il bilancio dei comuni andando a individuare quelle che sono le spese e andarle a comparare con altre realtà per capire se nei comuni si spende troppo o troppo poco perché anche questo insomma ha bisogno di parametri eh tutto ciò eh in questa fase ehm deve tradursi in una programmazione che è finalmente una programmazione triennale e non più diciamo eh finanziata anno per anno ma una programmazione triennale una programmazione d'ambito quindi un piano di zona triennale che deve essere ehm prodotto proprio in in questa in questo periodo quindi siamo tutti molto impegnati per fare un'interlocuzione abbiamo già cominciato a calendarizzare domani abbiamo un incontro con gli rappresentanti del terzo settore poi apriremo a seguire i tavoli tematici siamo tutti impegnati quindi a sviluppare questo ehm incontro con il territorio il piano eh sociale di zona avrà diverse fasi c'è la fase preliminare di raccolta dati che abbiamo affidato ad un soggetto eterno c'è una fase di stesura elaborazione di una prima bozza poi ci sarà la consultazione attraverso i tavoli tematici e infine l'approvazione e l'adozione del piano a cui seguirà la ehm la il monitoraggio delle attività la valutazione d'impatto eccetera eccetera quindi è tutto un modo diverso di lavorare rispetto eh rispetto a prima che naturalmente che cosa richiede? Richiede un potenziamento dei servizi non c'è dubbio noi abbiamo delle amministrazioni che sono assolutamente troppo provate dai tagli sul personale e questo fa sì che alla diciamo all'arretratezza politica che denunciava prima Rita si aggiunge anche un'effettiva mancanza di risorse io devo dire che quello che ho visto fare nel questo nel nostro assessorato in questi anni e soprattutto nell'ultimo anno e mezzo io non l'avevo mai visto da nessuna parte cioè si lavora veramente oltre eh qualunque capacità di sopportazione nonostante la pandemia hanno lavorato giorni e notte anche per la riorganizzazione la riprogrammazione di tutti i servizi utilizzando peraltro procedure diverse molto sulla coprogettazione quindi con tutto quello che ha significato anche in in termini di modifica delle dinamiche e tutto questo io sono convinta che si può che si traduce poi in una qualità diversa faccio un esempio se noi non avessimo avuto questa flessibilità nella coprogettazione noi ci saremmo trovati un po' come ha fatto il comune di Roma a a a nel 2020 a tagliare i servizi perché non si è stati in grado loro non sono stati in grado di rimodulare il tutto aprendo i tavoli di coprogettazione noi li avevamo già aperti ce li avevamo già e quindi è stato più facile per noi non ho ovviamente inteso né intenderei interrompere segnalo che siamo vicini alla conclusione sì finisco proprio rapidamente certo ma prendo tutto il tempo necessario solo per darle un'idea della giusto del ridotto spazio temporale che abbiamo finisco molto rapidamente dicendo che per esempio questo ci ha consentito di tenere aperto il dormitorio invernale parlo del dormitorio invernale quindi non del dormitorio che ci abbiamo aperto tutto l'anno il dormitorio invernale quindi quello che può lavorare solo in emergenza in emergenza freddo quindi in deroga a tutte le le disposizioni di legge è aperto dal dicembre del duemiladiciannove e non ha mai chiuso fino ad oggi fino a maggio è ancora aperto da allora perché perché naturalmente abbiamo convinto la prefettura la ASL eccetera che tenere monitorata e lo sa bene Angelo tenere monitorata quell'area di popolazione era indispensabile per loro naturalmente innanzitutto e per tutta la comunità perché altrimenti si sarebbero trasformare e abbiamo fatto il triage in ingresso tutte le sere quando ci sono stati dei positivi abbiamo fatto venire la ASL a fare i tamponi abbiamo dovuto battagliare con la ASL che siamo riusciti ad ottenere il fatto che avessero diritto ad essere ospitati nell'albergo covid come tutti gli altri cittadini e siamo riusciti anche a dimostrare la ASL che non sarebbe successo nulla di straordinariamente grave abbiamo presidiato quel posto abbiamo fatto in modo di dimostrare che si poteva fare ed è infatti è andato tutto è andato tutto a buon fine oggi siamo riusciti a organizzare anche le vaccinazioni allora tutto questo voglio dire significa produrre sempre delle cioè essere convinti essere determinati e produrre anche dei cambiamenti nelle mentalità delle persone perché poi la cosa importante è dimostrare che si può fare mettere di fronte al fatto compiuto anche quelle persone che sono più resistenti grazie mille grazie mi sembra che nei molteplici temi o meglio dettagli perché poi il tema sostanzialmente è molto solido e visibile conducono appunto tutte queste informazioni che ci ha fornito riconducono a un'asse centrale che lei aveva sottolineato e cioè un approccio ai temi dei diritti fondamentali chiamiamolo così della popolazione e il superamento di una visione dei servizi come specifici per categorie di persone categorie nel senso di richiedenti mentre invece la classificazione sociale il bisogno quindi la classificazione del bisogno non separa migranti cittadini residenti cittadini di lunga residenza o arrivati da poco devo dire che in uno degli scorsi incontri quando abbiamo fatto i gruppi di lavoro un tema che più di un partecipante aveva segnalato come un limite nel suo rapporto con le istituzioni era proprio questo fatto che qui si ragiona per servizi specifici per noi migranti dopodiché le persone che ci devono dare questi servizi sono mal preparate non ci sono l'ufficio è chiuso e quindi un servizio pensato teoricamente specificamente per parlare dei nostri bisogni in realtà è particolarmente scalcagnato e quindi mentre vorremmo essere considerati all'interno di un mondo che ha dei bisogni primari non una categoria che va trattata in modo separato questo era un tema che mi aveva colpito e che francamente nella mia vita di cittadino che si rapporta con l'ente locale non avevo colto nella sua reale dimensione a questo punto abbiamo praticamente pochissimi minuti anzi zero minuti però se c'è qualche domanda qualche questione specifica parecchi ci hanno dovuto già lasciare e abbiamo qui messaggi di saluti di partecipanti che hanno dovuto già abbandonare il gruppo però penso che abbiamo ancora qualche minuto nel caso in cui ci siano delle domande specifiche o delle considerazioni se questo non è allora credo di poter ringraziare tutte e tutti per questi Dario c'è Victory che vuole forse prego Mattia si è sbagliata Victory ah ok si è sbagliata voglio dire scusa ah sì sì vai 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 scusami non si sente ma c'è non vedo forse è iPad quel schermo che appare con iPad ah ok ok ah ecco lassù quindi non ho capito è un intervento no 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 penso di no voleva salutare che era tardi bene allora è molto difficile praticamente è impossibile ricondurre in pochi secondi una sintesi quindi non oso neanche farla direi Andrea ha fatto una domanda in chat Dario cioè collegamento servizi sociali con problema benissimo allora ecco la domanda di Andrea c'è un collegamento fra dei servizi sociali con il problema dell'occupazione è una domanda quindi il microfono non si sente ecco rispondo io o voleva rispondere Rita no dice intanto c'è un rapporto è più deputata lo fai no per carità intanto c'è un rapporto di causa-effetto insomma è chiaro che diciamo all'interno della valutazione delle problematiche i percorsi di inserimento e di inclusione lavorativa soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo è senza dubbio un tema importante e poi noi abbiamo avuto varie misure negli anni che andavano diciamo intervenivano a sostegno del reddito e a sostegno dell'inclusione lavorativa c'è stato prima il SAI poi c'è stato il REI e poi il reddito di inclusione e ora abbiamo il reddito di cittadinanza di cui tanto di cui tanto si discute che è una importante misura di sostegno del reddito ma è anche una misura per l'inclusione lavorativa in realtà rispetto al successo in termini di inclusione lavorativa veramente il risultato è stato scarsissimo però noi non demordiamo sapete bene che chi si occupa del REI chi richiede beneficiari del REI possono essere diciamo così possono sottoscrivere un patto per il lavoro che fanno direttamente con il centro per l'impiego oppure possono se hanno problematiche più complesse sottoscrivere un patto per l'inclusione che fanno con i servizi sociali in questo caso le riprese in carico che noi portiamo avanti devono tener conto anche del sostegno all'inclusione lavorativa ora quello che vorrei dire però non cadiamo nella trappola che diciamo il welfare non centri con lo sviluppo economico e con la possibilità di creare lavoro e di dare possibilità di lavoro è chiaro che il welfare guarda anche agli altri settori perché abbiamo bisogno che ci sia che si muova l'economia per avere risposte però il welfare è anche una leva che muove l'economia non solo perché le aziende che si occupano di welfare sono tante e creano molti posti di lavoro ma anche perché spesso il welfare è un welfare generativo guardiamo la questione del laboratorio acantus potrei parlare del progetto ilma con le donne vittime di violenza cioè spesso è generativo anche di sviluppo economico e quindi di creazione di posti di lavoro bene d'accordo a questo punto io dicevo non non oso fare sintesi però direi che i tre assi dell'incontro sono stati approfonditi molto 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 interessante in alcuni casi anche anzi sicuramente fornendo molte informazioni nuove punti di vista che non almeno io che vi parlo non conoscevo non immaginavo esperienze che hanno elementi di replicabilità e anche che sarebbe interessante approfondire magari in altra sede quindi a questo punto ringrazio tutti e do la parola a Mattia che ci ricorda i prossimi appuntamenti e vi saluto grazie a tutte e tutti il prossimo appuntamento come già sapete è il prossimo lunedì alla stessa ora vi manderemo il link con il il remind per la riunione per l'incontro grazie buona serata a tutti e tutte grazie a voi buona serata ciao buona serata a tutti voi ciao a tutti ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti.